Buongiorno a tutti, sono Giovanni, consulente alla vendita per la concessionaria BMW Tulopezzo. Sono qui oggi per presentarvi la nuova e prima BMW SR2 Grand Coupé. Nuova BMW SR2 Grand Coupé è la perfetta combinazione tra sportività e prestazione. Le sue forme audaci esaltano il suo carattere sportivo, dinamico, senza trascurare la classe che da sempre contraddistingue le coupé di BMW. Linee decise, design muscoloso, cerchi lega da 18, doppio scarico distanziato, impianto frenante M Sport offrono un look davvero sportivo alla vettura. Nella zona posteriore possiamo notare lo spoiler sportivo, fare led con sviluppo orizzontale che simboleggiano innovazione e tecnologia. La carrozzeria da Grand Coupé regala interni generosi, un bagagliaio versatile senza rinunciare ad eleganza e stile. L'abitacolo offre tantissimi dettagli premium a partire dai sedili M che avvolgono il conducente anche durante la guida più sportiva. BMW è anche sinonimo di tecnologia, infatti a bordo della nuova BMW SR2 Grand Coupé è possibile trovare il Live Cockpit Professional da 10.25 pollici. Da qui è possibile gestire la navigazione, l'intrattenimento e tutti i servizi online. È inoltre disponibile Apple CarPlay e Android Auto. Dal punto di vista della sicurezza, BMW Driving Assistant è il vostro perfetto alleato per la guida di tutti i giorni ed è in grado di regalarvi una guida davvero unica. Oltre al mantenimento di corsia, il cruise control adattativo e la frenata d'emergenza automatica, BMW SR2 Grand Coupé offre l'assistente all'elettromarcia. Grazie a questa funzione vengono registrate gli ultimi 50 metri, così l'auto può effettuare l'elettromarcia in totale autonomia. Questa funzione è utilissima in città e negli spazi distretti. Tutte le motorizzazioni di BMW SR2 Grand Coupé offrono il puro piacere di guida BMW. L'elevata coppia è efficacemente scaricata a terra grazie alla trazione intelligente X-Drive che ripartisce perfettamente la spinta tra sale anteriore e sale posteriore. SR2 Grand Coupé regala un'agilità di guida al top di gamma, un'esperienza di guida fantastica grazie al cambio automatico ad otto rapporti e al pad alla volante per una guida davvero pilota. Ti ho incuriosito? Scrivici qui sotto nei commenti. Ti aspettiamo al prossimo video!